Lunedì 11 gennaio in Puglia sono stati registrati 3577 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 622 nuovi casi positivi 228 in provincia di Bari 39 in provincia di Brindisi 106 nella provincia Bat 146 in provincia di Foggia 84 in provincia di Lecce 18 in provincia di Taranto un residente fuori regione sono stati registrati 26 decessi di cui 10 in provincia di Foggia dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.122.582 test per l'infezione da coronavirus 44.604 sono i pazienti guariti e 54.933 sono i casi attualmente positivi in Puglia la forza e la leggerezza della musica per aiutare chi è in un momento difficile grandi emozioni quelle suscitate dal mini live musicale note in corsia tenutosi presso il policlinico riuniti di Foggia e organizzato dall'associazione animando musicando divertendo ed eros cover band and friends per i pazienti e gli operatori sanitari un pomeriggio musicale per dire grazie a quanti in qualsiasi ruolo nel mondo dell'assistenza hanno combattuto e stanno combattendo fianco a fianco con i loro pazienti contro il terribile virus e per portare un po di sollievo ai pazienti ricoverati in un momento così particolare e difficile la band che si esibita dal vivo è composta dalla presidente dell'associazione elli calabrice dal vicepresidente piero vicere dal maestro michele dedda di ora rita botta nicola ferrandino giacomo prioletti anna ladogano l'evento è stato nel segno dell'attenzione alla dimensione sociale psicologica e all'umanizzazione delle cure del policlinico riuniti di Foggia con un approccio di carattere olistico alle persone ricoverate al termine del mini live sono stati fatti volare in cielo numerosi palloncini bianchi con l'augurio che questo momento di grave emergenza sanitaria si concluda al più presto pubblicati sul sito istituzionale della provincia di Foggia i bandi per i concorsi pubblici per esami per la copertura di due posti di istruttore tecnico e di tre posti di istruttore direttivo tecnico le domande di partecipazione potranno essere inoltrate non appena gli avvisi verranno pubblicati in gazzetta ufficiale la provincia torna ad assumere personale dichiara il presidente nicola gatta un bilancio elaborato con attenzione rigore ed una situazione economica migliorata rispetto al passato ci consentono di inserire nuove professionalità all'interno dell'ente soprattutto nei servizi tecnici considerato che sono tecniche le maggiori competenze provinciali relativamente a scuole e strade le nuove figure professionali contribuiranno a rendere più efficace l'azione tecnico amministrativa provinciale ha dichiarato nicola gatta il presidente della regione puglia michele emiliano e l'assessore all'ambiente anna grazia maraschio insieme al presidente della regione basilicata vito bardi e l'assessore all'ambiente lucano gianni rosa hanno partecipato in videoconferenza ad un primo incontro operativo per cominciare a concordare una strategia unitaria e definire insieme tutti i rilievi da sottoporre al governo nazionale per scongiurare la localizzazione delle scorie nucleari nei siti pugliesi e lucani così come riportato dalla mappa pubblicata la scorsa settimana dalla sogin della knapi i siti di cui parliamo hanno dichiarato emiliano e maraschio sono siti connessi dal punto di vista geologico e naturalistico sappiamo bene di avere di fronte per ora solo un elenco potenziale ma intendiamo tirarci fuori da questo elenco perché quelle pugliesi e lucane sono tutte aree di particolare pregio naturalistico le osservazioni dovranno essere presentate entro il 6 marzo 2021 in tutto a a a a a a a